Una delle iniziative su cui abbiamo lavorato lo scorso anno è stata quella di portare la statistica sui banchi di scuola attraverso un progetto denominato Statistica e Cittadinanza. Rivolto agli studenti di scuola secondaria superiore, l'ambizioso obiettivo è quello di sviluppare la capacità critica di orientarsi tra i dati in un'ottica di cittadinanza attiva. La nostra classe target è stata una quarta del liceo economico-sociale Marconi di Pescara. Gli incontri si sono svolti sia in presenza sia attraverso una piattaforma web, predisposta ad hoc per la raccolta, la gestione e il monitoraggio e la pubblicazione dei contributi dei ragazzi. Partendo dalla percezione di un fenomeno a loro caro, ovvero l'ambiente, si è fatto un confronto con i dati della Statistica Ufficiale, attraverso la somministrazione di un questionario rivolto a tutti gli studenti della scuola. Il questionario diventa lo strumento di lavoro operativo per l'analisi dei risultati e per il confronto con i dati della Statistica Ufficiale, fino ad arrivare alla stesura di un articolo pubblicato nell'area web e presentato alla scuola con un incontro finale.